Sicuramente è una grandissima occasione, è un bellissimo progetto, conoscere una grande quantità di persone, dei super professionisti, ognuno estremamente specializzato nel proprio campo, quindi è una grandissima occasione di imparare e di mettere a disposizione quello che è il mio know-how, imparato in anni e anni di foil e di classi olimpiche, a disposizione del team. Sicuramente anni e anni di foil sono una parte importante, queste barche navigano su foil a velocità altissime e è un po' quello che ho imparato nelle classi olimpiche, sicuramente è un valore aggiunto da portare qui nel team. Sicuramente anni e anni di tentativi, prove, esperienze in acqua e a terra, e poi formano una conoscenza e soprattutto ti danno la possibilità di risolvere problematiche perché le hai già viste e sperimentate, quindi velocizzare tutto un processo di apprendimento e di miglioramento. Essere nel team di Luna Rossa e andare avanti con la preparazione olimpica in vista di Parigi 2024, sicuramente è una cosa che si può fare, molto importante è la flessibilità della federazione di Luna Rossa per portare avanti questo progetto, ma avendo la fortuna di essere qua a Cagliari in una situazione perfetta perché ci alleniamo qua al Poetto e Luna Rossa è qui a Cagliari e chiude un cerchio molto importante e le due cose si aiutano a vicenda. Grazie.